Cerignola vince, Bitonto non molla, Altamura perde quota. La bagarre a tre per la promozione diretta in Serie D rischia di diventare una lotta a due quando mancano cinque partiti al termine della stagione regolare. Ha raccontato questo la giornata numero 25 del campionato di eccellenza. Ha detto che la capolista continua ad essere implacabile quando si esibisce davanti al pubblico del Monterisi. Il Cerignola batte 2-0 l'Unione Calcio Biceglie e conferma così la leadership solitaria in classifica. Primo tempo senza reti. I padroni di casa rompono l'equilibrio con Morra intorno all'ora di gioco. Poi dopo un clamoroso palo colpito dagli ospiti con Di Piero raddoppiano con lo Iodice. Tre punti per gli Ofantini, tre punti e due gol anche per il Bitonto che espugna il domicilio del Noicattaro con le reti di Zotti e Turitto e resta di conseguenza in scia della prima della classe. Classifica Cerignola 58 punti, Bitonto 56. Scivola a meno 7 dalla vetta invece il team Altamura sconfitto 3-1 a Bieste. Battuta d'arresto pesantissima per i Murgiani, quella rimediata nella trasferta sul Gargano. Scivolone che provoca anche le dimissioni del tecnico Gennaro Di Maio. La situazione insomma non è delle migliori per l'Altamura che però ha la necessità di archiviare subito il verdetto dell'ultima partita e concentrarsi sulla sfida decisiva di Coppa Italia e dilettanti contro il Portici in programma domani pomeriggio alle ore 14.30 sul neutro e a porte chiuse di Castellaneta. Solo un successo consentirebbe ai Murgiani di superare il triangolare inaugurale della fase nazionale e accedere così al round successivo in panchina per l'Altamura. Domani potrebbe esserci Luigi Panarelli. Tornando al campionato il Casarano batte al Capozza la Molfetta sportiva e conferma la quarta posizione in classifica. Quinto posto sempre per il Barletta che ha ragione nella ripresa dell'Otranto al Manzi-Chiapulin. L'espulsione di serio intorno all'ora di gioco complica la partita dei Salentini. I biancorossi di Pizzulli ne approfittano per rompere l'equilibrio con Sguera e raddoppiare le marcature con questo bel gol al volo di Lavopa. Il Barletta vince per la prima volta da quando c'è Pizzulli in panchina due gare consecutive ma i playoff restano comunque parecchio distanti. Torna ad essere distante l'ultimo posto in classifica per la Vigortrani merito del rotondo successo ottenuto a Statte contro l'Ella Staranto. I biancazzurri mettono le cose in chiaro già nel primo tempo con i centri di Camporeale Trotta e Cucco poi completano il poker nella ripresa con Tedesco. Il più quattro sull'ultimo posto occupato proprio dagli Ionici allontana per il momento l'incubo della retrocessione diretta per i tranesi tornati prepotentemente in corsa anche per la conquista della salvezza già al termine della regular season. Un notevole passione avanti verso la conferma della categoria lo compie anche la Vetrana che vince in trasferta lo scontro diretto con il Gallipoli pari e patta infine tra Galatina e Novoli.